Modena Antiquaria Evolution Pietro Cantore, presidente Associazione Antiquari Modenesi e Lucia Peruzzi, curatrice della collezione Galleria Biper. Presenta Lorenza Cervini, giornalista del Corriere della Sera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Modena Antiquaria Evolution, arte, passione e bellezza on air. L'edizione di quest'anno si svolge in modalità virtuale da oggi, 22 maggio fino al 30 maggio. Mostra di alto antiquariato, meta di amanti dell'arte, collezionisti, esperti del settore, alla ricerca di pezzi di qualità per musei e grandi collezioni internazionali. Si tratta di 9 eventi in 9 giorni per dialogare di arte, antiquariato, cultura, in diretta streaming sui social e sui canali di Modena Antiquaria. In apertura subito i nostri ospiti, qui diamo il benvenuto a Marco Momoli, direttore di Modena Sera. Buonasera. 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 Ve riferi coro, Assessore Bortolamasi. Voglio ringraziare anche gli sponsor, e la Biper in particolare, che ci hanno voluto seguire anche in questa nuova esperienza digitale. Quindi, buon lavoro a tutti. Direttore, i numeri di Modern Antiquari Evolution? I numeri di Modern Antiquari Evolution sono quelli che dicevo prima, cioè sono 9 giorni di incontri. Noi abbiamo cercato di coinvolgere in questo tutti i nostri più importanti e affezionati clienti, perché pensiamo che sia giusto non potendo fare la fiera fisica dare un segnale di attenzione e di continuità a tutti quelli che ci seguono in questi periodi difficili quindi galleristi antiquari e collezionisti quindi adesso vedremo nei prossimi giorni ci auguriamo che questi incontri vengano visti e seguiti da molte persone le aspettative sono buone l'interesse che abbiamo avuto in questi giorni tramite le telefonate, i contatti che abbiamo avuto è notevole e vedremo speriamo in bene sono curiosa di sapere perché nasce e si consolida proprio a Modena una fiera di settore così trainante Modena è una città che ha nella sua storia, nel suo DNA una particolare attenzione alla cultura in generale e soprattutto all'antiquariato è sempre stata un centro veramente importante a livello nazionale per tutto quello che riguarda l'antiquariato quindi è un po' nata da qui dal fatto che a Modena c'erano tante persone che all'antiquariato si interessavano ci sono state per la storia della città tante situazioni che hanno potuto portare alla presenza in città di opere, di capolavori, di antiquariato e quindi da qui è nata questa manifestazione che poi negli anni ha saputo imporsi come evento centrale in Italia come evento di altissimo profilo sempre più alto profilo in Italia questo poi sicuramente ve lo potrà raccontare anche meglio Pietro Cantore che ci segue da tanto tempo ci aiuta da tanto tempo con la sua galleria nell'organizzazione della manifestazione ma è proprio una situazione che è legata al territorio e quindi questo è anche importante perché per noi è importante riuscire a realizzare manifestazioni che abbiano un fortissimo legame col territorio grazie a Marco a Marco Momoli scusi la parola a Andrea Bortolamasi assessore alla cultura del comune di Modena per i saluti grazie grazie buon pomeriggio a tutti e a tutte grazie per l'invito mi riallaccio a quello che diceva il dottor Momoli del legame tra la fiera l'ente fiera e il suo territorio e in particolar modo del legame tra Modena Antiquaria che è giunta quest'anno alla sua 35esima edizione e la città l'impegno è quello di rafforzare sempre di più questo legame aprendo la città la fiera e la fiera la città anche con eventi off immaginando che siamo al lavoro per questo un fuorisalone che permetta ai visitatori che torneranno a febbraio in presenza di vivere a pieno la città una città che ha nella cultura e nella creatività uno dei suoi tratti distintivi parte del suo DNA originale e soprattutto ha forse ancora poco conosciuto un patrimonio artistico architettonico culturale che solo negli ultimi anni è diventato meta turistica e stiamo provando sempre di più a far conoscere in primi stanza ai nostri concittadini ma ai tanti turisti che negli anni mi auguro possano tornare nei prossimi scelgono Modena come meta e proprio per questo fa particolarmente piacere essere qui oggi per ripartire dopo il covid abbiamo deciso di candidare la città la città creativa UNESCO per il cluster delle media arts è una rete quella delle città creative che crediamo possa portare tanto alla città e manifestazioni come queste che sfruttano la possibilità dell'online del digitale dell'innovazione digitale per allargare i momenti di fruizione culturale di divulgazione del patrimonio si muovono proprio nella direzione della candidatura che vuole provare a far sì che il sapere umanistico e il sapere scientifico e le innovazioni le tante innovazioni che il digitale e l'accelerazione del digitale che abbiamo vissuto in in quest'anno possa rappresentare uno strumento utile anche in ambiti distanti come penso quelli culturali quindi ci attende con Modena Antiquaria Evolution nove giorni nove giorni con nove appuntamenti di livello assoluto e che sfruttano essendo ancora nella coda lunga dell'emergenza sanitaria le possibilità del digitale e ci auguriamo che ampliando la fruizione perché lo si può seguire da un device o da uno smartphone o da un tablet ci sia poi la voglia e la curiosità per tornare in presenza finalmente a Modena a febbraio alla 35esima edizione della fiera e di vera benissimo andrà molto molto bene l'edizione di febbraio grazie ad Andrea Bortolamaglia assessore alla cultura del comune di Modena adesso la parola Mauro Felicori assessore alla cultura della regione Emilia Romagna buonasera buonasera io trovo meravigliosa la capacità di resistenza di Modena Antiquaglia e anche con il bello questo paradosso che Modena Antiquaglia resiste attraverso l'uso delle tecnologie più moderne di Modena Antiquaglia e l'antiquaglia è un'attività di amico per i due restriere però ho incontrato molte volte la carriera professionale l'ultima come dire che era la regge di Caserta quando ho osservato nel mercato l'unico porto che aveva in Sicilie non di proprietà della regge di Caserta ma nel mercato Antiquaglia nel mercato Antiquaglia secondo me che si sottovaluta la carriera del ruolo fondamentale che è un'attività di amico della Salvatual del restauro della valorizzazione di Pasi Modena c'è un'ossessi la poca importanza al ruolo istituzionale che è molto importante ma poco e poco al ruolo dei privati che è un'attività di Pasi Modena il fatto che Modena abbia questa tira così importante è una ragione di orgoglio ma è anche per noi una ragione di scuola perché dobbiamo far sentire intorno a questa tira che orgoglio e l'impegno di tutta la regione questo è l'impegno che io prendo qui con voi buon lavoro e buon tira intervento di Mauro Ferricori assessore alla cultura regione Emilia Romagna ricordo che Modena Antiquaria per chi si è messo in collegamento in questo momento è la manifestazione di riferimento per chi ricerca l'eccellenza nel settore dell'antiquariato e ama anche confrontarsi con un'ampia offerta soprattutto anche molto diversificata ma su questo ci dirà qualcosa di più Francesca Moratti responsabile di Modena Antiquaria buonasera signora Moratti buonasera buon pomeriggio a tutti Modena Antiquaria Evolution on air quest'anno di cosa si tratta? diciamo che in questo momento noi saremmo dovuti essere all'interno dei padiglioni in quella che era la giornata di apertura della nostra mostra fisica con tutti quei sentimenti di entusiasmo di fermento anche di adrenalina e di timore un po' anche di stanchezza dopo tanti mesi di lavoro che avrebbero comportato una fiera così di livello così importante per il nostro quartiere ci abbiamo creduto molto purtroppo aspettavamo una buona notizia dal governo che non è arrivata per cui il direttore Momoli mi ha chiesto insomma di pensare insieme a lui di trovare un'idea che potesse dare voce diciamo a questo momento di buio della mancanza della presenza della realizzazione della mostra fisica e non volevamo assolutamente abbiamo escluso da subito un evento una fiera online una fiera virtuale perché proprio per la tipologia stessa della manifestazione che è così emozionale che ha così necessità di un'empatia diretta con l'opera e anche vorrei dire un rapporto diretto tra acquirente e compratore per cui ci sembrava un evento che sarebbe stato muto invece noi volevamo dare una voce volevamo dare una voce ai protagonisti ai protagonisti della nostra manifestazione che sono in primis ovviamente le nostre gallerie le gallerie prestigiose che ci seguono da tanti anni sempre più numerose sempre più importanti e una voce anche alle opere cioè ai capolavori che mi erano grazie appunto quali contenuti della manifestazione di quest'anno quest'anno è una manifestazione come già stata detto precedentemente appunto da chi mi ha preceduto dal direttore sono nove giorni di incontri nove giorni online uno al giorno proprio per ricreare questo legame con la fiera che sarebbe stata di nove giorni e sono un'alternanza di voci che approfondiscono i temi della manifestazione e ne anticipano invece alcuni di novità insieme a tutti i protagonisti appunto tutti gli attori antiquari storici dell'arte direttori di musei giornalisti esperti che si alterneranno in questa narrazione perché ogni opera come dicevo accennavo prima ha una storia dietro ed è quella che vogliamo raccontare attraverso questo in questo ciclo di incontri appunto parliamo di novità novità anche per chi ama un giardino splendido importante non solo per il verde ma anche per l'arredo e per le opere d'arte per le fontane per i capitelli per le vasche in piedra tutto quello che si può mettere di bello e di artistico in un giardino elementi decorativi architettonici per giardini storici e anche ville di campagna questa è una delle novità allora i contenuti di Modena Antiquaria naturalmente sono tradizionalmente quelli legati alle opere d'arte quindi con questa grande vetrina e oltretutto vorrei sottolineare la capacità e la forza di Modena Antiquaria anche come punto di momento di business perché Modena Antiquaria è una fiera in cui si compra molto e si vende molto quindi è una fiera molto attesa dal pubblico e che è molto fedele poi naturalmente come accennava lei c'è il discorso di Petra che invece è un altro salone che viene svolto in contemporanea comoda e antiquaria da ormai 27 anni che ha un'identità molto precisa molto specifica su quello che è invece tutto ciò che sempre rimane all'interno ovviamente dell'opera d'arte antica ma legato al mondo dei parchi e dei giardini e delle ville e questa è una fiera che ha perso negli ultimi anni un po' della sua identità e della sua connotazione legata appunto a questi aspetti scenografici inizialmente nei primi anni si aveva la sensazione di entrare davvero in un parco fatato incantato il nostro obiettivo l'obiettivo di Modena Fiera quest'anno è proprio quello per l'edizione 2022 di rinnovare sostanzialmente in modo molto concreto e molto incisivo il progetto di Petra attraverso il riportare dentro 1800 metri quadrati circa di verde scenografico una selezione molto attenta quindi una riduzione forte delle gallerie che saranno privilegiate verano privilegiate quelle che hanno appunto sono specializzate nell'ambito appunto di opere d'arte d'antico per esterno l'istituzione di una commissione vetting cioè di esperti che valuteranno le opere e questa bellissima novità che avremo anche di questo concorso progettuale di giardini all'interno del padiglione costituito diciamo organizzato insieme alla Fondazione Bioabita di Bologna e anche agli architetti italiani paesaggisti che porterà credo dei temi aprirà una finestra su dei temi nuovi molto importanti giardino storico paesaggio che ci porterà anche a poter intercettare dei segmenti nuovi di pubblico e di interesse anche più vasto tra i progetti di modi in antiquaria anche uno che riguarda la scultura nello specifico? il progetto della scultura sarà la vera la vera novità del 2022 è un progetto che nasce da una riflessione di poter potenziare un po' la proposta di modena antiquaria creando uno spazio tematico dedicato solo per la scultura e capolavori italiani dal XIII al XX secolo anche idealmente abbiamo fatto un trade union perché questo progetto sarà ambientato in un giardino storico all'italiana progettato dall'architetto Moncada di Paternò proprio per unire l'opera d'arte con il verde che sono i nostri due temi portanti della manifestazione avremo un comitato scientifico di elevatissimo valore con i Fernando Mazzocca Aldo Galli Andrea Bacchi che sono non devo presentarli perché parlano dal sole questi nomi che comunque saranno insieme a noi in queste giornate per raccontarci appunto questi appuntamenti di scultura che faremo proprio per anticipare in modo molto forte questo evento su cui contiamo anche perché parlando con gli antiquari ho imparato perché non è il mio mestiere quindi imparo moltissimo dagli antiquari parlando con loro che questo settore è un settore molto in espansione anche che permette ancora di scoprire di avere ancora delle potenzionalità di studio di scoperte quindi si può regalare davvero delle emozioni a tutti quanti grazie Francesca Moratti responsabile di Modena Antiquaria è con noi uno dei maggiori esperti di antichità italiani ma anche a livello internazionale perché ha vissuto tantissimo tazzissimo anno nei tantissimi anni negli Stati Uniti a New York Pietro Cantore presidente dell'associazione antiquari modenesi buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio antiartica dal 1300 fino al XX secolo quindi tanta pittura ma anche tanti oggetti e tanti maioliche quindi c'è davvero il rischio di soffrire della sindrome di Stendhal e anche un antiquario come lei tra tanta bellezza potrebbe anche perdersi a moden antiquaria beh moden antiquaria storicamente è una mostra molto variegata cioè si trovano tutti tutti i settori dell'arte antica dell'antiquariato vengono ben rappresentati dagli espositori storicamente a moden a differenza di tante altre mostre vengono molto valorizzate vengono portate le mobili d'arredamento del 5 del 6 del 700 perché gli emiliani in definitiva amano gli arredi e quindi sono studiati e coccolati in qualche maniera però tutti dalla pittura dalla scultura gli arazze i tappeti è una mostra a 360 gradi e rispecchiano il mondo dell'antiquariato che a modena veramente trova la sua culla una mostra come questa di modena antiquaria è unica veramente unica e non ha uguali possiamo dire una delle maggiori europee Presidente intanto vorrei pregare il nostro regista Daniele Righi di mandare la prima parte di un video proprio appunto su Modena Antiquaria con le immagini di Alessandro Betti e Francesca Bertolozzi una mia curiosità ma come è cambiato il mercato dell'arte antica dagli anni 80 90 fino all'inizio del nuovo millennio e fino ad oggi beh diciamo che è cresciuto si è fatta molta chiarezza molta chiarezza su gli oggetti che valgono e quelli che non valgono quindi le cose importanti quelle studiate quelle valorizzate come ben in uno stato di conservazione ottimale hanno valore le altre cose sono state un po' lasciate indietro comunque ora l'antiquario è un professionista molto attento molto bravo molto corto e ci raffronta con anche dei clienti dei potenziali clienti che sono molto esigenti quindi vogliono tutti questi questi ingredienti quindi per comprare un dipinto antico si deve avere uno studio alle spalle si deve avere una certificazione per lo stato di conservazione il soggetto insomma sono mille sfumature però è un momento anche molto entusiasmante per avvicinarsi a questo mondo ci sono anche tanti giovani che si avvicinano che guardano e sono curiosi ecco qua abbiamo un po' diciamo uno spaccato della manifestazione di Modena Antiquario che è una mostra molto molto elegante dove gli oggetti vengono ben vedendo scorrere le immagini sono rimaste anche molto colpita dalla qualità delle opere esposte queste sono immagini che si riferiscono anche alle passate edizioni di Modena Antiquaria quindi la qualità è veramente molto alta la qualità è alta ma è una scelta obbligata una scelta obbligata per partecipare a una manifestazione come questa è una scelta obbligata per affacciarsi a un mercato dell'antiquariato molto molto maturo quindi tutti gli antiquari che adesso sono diciamo sul mercato un mercato di livello come questo sono molto aggueriti e molto preparati quasi tutti di seconda o di terza generazione quindi non dimentichiamo anche la tradizione che c'è dietro un antiquario quindi Presidente una domanda il mercato è cambiato anche in base all'avvento dei social quanto ha influito soprattutto dal partire dal 2007 ad oggi il cambiamento che c'è stato a livello proprio tecnologico e di informazione beh come si è sempre detto l'emozione che dà un'opera d'arte in presenza è imparagonabile rispetto all'opera virtuale i social sono importanti per approcciarsi per avvicinare il cliente per dare la visibilità come stiamo facendo in questo momento stesso cioè noi stiamo dando visibilità e facciamo capire che cos'è una mostra come modena antiquaria per entrare dentro come uno stand come questo bellissimo stand di Angelo Enrico direi e che porta dipinti dell'ottocento di alto livello però non sarà mai sostituibile è importante per avvicinarsi a un vasto pubblico ma dopo il lavoro lo deve fare deve fare l'antiquario parlando e comunicando ma come primo passo è importante Presidente ma durante la pandemia che tutto si è fermato si è fermato anche il mercato dell'antiquariato? Devo dire assolutamente no cioè stranamente il 2020 è stato un anno interessante per il mercato dell'antico anzi la gente le persone che sono state costrette a casa per un lungo periodo in realtà hanno capito l'importanza della casa e l'importanza di avere un'opera d'arte antica un bel mobile un bel dipinto un bel oggetto perché dà piacere dà piacere nella quotidianità avere queste cose e chieda Presidente sommetto che durante la pandemia anche qualcuno dei suoi clienti ha chiesto aiuto perché è in stato di ansia un aneddoto ma cosa vuole che lì la cosa io c'è una cosa stranissima proprio durante il periodo di lockdown quello più duro dove non si poteva uscire sono stato contattato da un mio vecchissimo cliente e che mi ha comprato proprio una sfoltura e certamente è importante comprare dall'antiquario di fiducia dal professionista gli ho dato tutte le garanzie gli ero portato in una maniera roccambolesca a casa cioè alla fine l'amore per l'antico va oltre qualsiasi pandemia che prospettive ci sono quindi per il futuro per il mercato dell'antico ma io direi che ci sono delle prospettive assolutamente ottime lo dimostrano anche tanti dati delle vendite d'asta degli studi di stil settore fra l'altro abbiamo come gruppo Apollo associazione Antiquale d'Italia abbiamo commissionato uno studio a Nomisma proprio sullo studio del mercato dell'arte a 360 gradi antico moderno contemporaneo sarà molto interessante vedere in che direzione stiamo andando ma secondo me le prospettive sono veramente ottime perché parlando con tanti clienti le vendite ci sono c'è molto entusiasmo i prezzi sono interessanti adesso è un bel momento per comprare quindi c'è fermento c'è fermento Presidente ci sono delle tendenze in corso in questo momento ma le tendenze ormai il nostro mercato dove tutti i settori sono già stati ben studiati adesso c'è questa bella iniziativa della manifestazione di modena antiquaria che accende un focus sulle sculture che siano dal 3 al 20 secolo non importa però tendenzialmente la tendenza la crea l'antiquario cioè la passione che ha l'antiquario sulla pittura sul mobile o sulla razza o que altro perché è importante il trasmettere l'amore per questo mercato alla fine la figura dell'antiquario è centrale cardine in tutto questo meccanismo Lei ha iniziato questa attività molto molto giovane mi sono molto ben informata quindi se lei dovesse rivolgersi ad un giovane oggi che vuole entrare in questo mercato qual è il suo suggerimento da dove dovrebbe partire Sicuramente il visitare le botteghe degli antiquari i negozi parlare con l'antiquario raffrontarsi capire attingere poi anche molto visitare i musei perché si parla parte anche da questo noi anche la manifestazione è molto legata alla galleria estensa infatti vediamo Augusto Di Bernini raffigurante Francesco Primo anche sul nostro schermo venire a vedere una mostra ad antiquariato come questa è un'esperienza di vita straordinaria perché uno passa da uno stand all'altro vede uno spaccato dall'ottocento al settecento al seicento di tutto e parlare parlare con gli antiquari perché adesso questa generazione di antiquari è molto predisposta a comunicare a comunicare quando entra nella mia galleria entra un giovane di diciotto vent'anni mi dà una gioia enorme enorme perché è il futuro bene intanto ringrazio Pietro Cantore ritorneremo con lei più tardi perché adesso abbiamo un un omaggio a B per Banca che è da sempre presente nella scena culturale di Modena Antiquaria che è possibile anche grazie al sostegno di B per Banca Lucia Peruzzi storica dell'arte e curatrice della collezione di B per Banca presenta due capolavori del museo aziendale Galleria B per i video sono parte della rubrica tesori d'arte per conoscere in maniera più approfondita la storia degli artisti gli aneddoti legati alle loro opere e tante tante curiosità e invito la regia a mandare in onda l'adorazione del bambino con San Bernardino il padre eterno benedicente di Cristoforo Canosi da Lendinara e l'altro video Rinaldo e Armida di Alessandro Tiarini e poi saremo con Lucia Peruzzi Questo prezioso altarolo portatile costituisce forse la gemma più grande della raccolta della B per Banca fu restituito da Carlo Volpe a Cristoforo da Lendinara un artista del Quattrocento straordinario che è riconoscibile per la sua adesione modernissima ai modi di Piero della Francesca Cristoforo da Lendinara aveva lavorato a Ferrara alla metà del Quattrocento alla realizzazione in tarsie dello studiolo di Leonello d'Este e aveva conosciuto probabilmente in questa occasione Piero che era passato appunto dalla città di Ferrara in questa conetta la visione sublimemente prospettica del grande maestro si illumina con una luce molto più naturalistica che ammorbidisce le forme che fa risaltare i colori che mette in evidenza anche la verità dei volti dei personaggi che vengono rappresentati nella composizione la perfetta struttura prospettica dello spazio la semplificazione geometrica che deriva da Piero della Francesca si intridono però di una luce realistica mattutina che proviene dal fondo e mette in evidenza il bellissimo paesaggio collinare in lontananza animato da una successione stupenda di piccoli alberelli che si stagliano questa luce tornisce le figure guardiamo la bellissima scollatura che circonda il volto della Vergine sottolineata da una pennellata leggerissima bianca e nera guardiamo per esempio lo stupendo particolare del velo trasparente che copre in parte la capigliatura della Vergine e la luce scivola però anche sul volto dei personaggi mettendoli in evidenza in tutta la loro realtà per esempio il volto di San Giuseppe molto chiaroscurato molto tipico e un San Giuseppe fra l'altro vecchio anziano rappresentato realisticamente anziano come realisticamente è rappresentato il San Bernardino di lato con il tipico profilo a guzzo quindi è questa un'espressività ancora di stampo tardo gotico che si mescola alle innovazioni del grande Piero della Francesca di cui Canozzi è al corrente ma del tutto gotica è anche la stupenda cornice quasi del tutto integra costituita da una cuspide polilobata tutta frastagliata a fogliami e anche con pilastrini laterali che culminano in pinnacoli però se guardiamo lo straordinario particolare del Padre Eterno che si sporge in alto capiamo come il modo di intendere lo spazio è completamente diverso cioè la cornice addirittura diventa una vera e propria architettura che sembra inquadrare spazialmente la figura del Padre che si sporge realisticamente quasi a proteggere la sottostante adorazione il pittore bolognese Alessandro Tiarini rappresenta un passo tratto dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso il momento in cui la madre Armida che era stata abbandonata da Rinaldo tenta di darsi la morte con un dardo accuminato ma viene fermata dall'impetuoso sopraggiungere dell'amato stesso il testo letterario era stato più volte affrontato dal Tiarini in vari momenti della storia questo dipinto diventa paradigmatico proprio per la sua irruenza per la sua forte carica drammatica e sensuale la sua forza naturalistica che Alessandro Tiarini aveva preso frequentando e studiando i dipinti di Ludovico Carracci Malvasia dice che prima di dare inizio all'opera leggeva ben bene il testo e poi scherzava anche con gli aggiunti cioè cercava di trovare quei particolari che potessero in qualche modo dare ancora più forza al racconto anche in questo caso il dipinto rende pianamente quella che è l'atmosferica poetica di Tasso cioè questa sottile vena malinconica amorosa però caricata in senso in questo caso fortemente barocco Infatti Tiarini rappresenta quell'idea tassesca appunto del contrasto tra la punta cuminata del dardo con la splendida mollezza del seno candido però la carica attraverso questa composizione in diagonale che sembra quasi venirci addosso la carica di questa tensione erotica che supera di gran lunga quella che era la malinconia tassesca La maga vinta aveva già deciso di uccidersi e come dice Tasso Strale scegliea il più pungente e forte già tinta in viso di pallor di morte quel pallore che noi vediamo appunto ripreso da Tiarini ma quando sopraggiunge di Rinaldo ed a tergo esse la venta e il braccio prende che già la fera punta al petto stende quindi Rinaldo da dietro l'ha fermata proprio nel momento in cui lei sta per configgersi la punta ma ella cadea quasi fiore mezzo inciso piegando il lento collo e cedendo tutta lungo la diagonale del melodrammatico gesto lei si abbandona nelle braccia di Rinaldo e la sostenne e intanto al bel sen le rallentò la gonna quindi Tasso stesso dice che lei si apre la veste ma in questo caso Tiarini diciamo l'apre in modo molto abbondante per accentuare appunto l'erotismo del seno mai si era visto un seno così apertamente mostrato è la stessa appassionata retorica espressiva che noi ritroviamo anche nella stupenda decorazione della Basilica della Ghiara a Reggio Emilia di cui Tiarini era stato uno dei protagonisti grazie a Lucia Perruzzi per questi due video veramente due spunti importantissimi quasi due video di lezioni sulla storia dell'arte italiana e Lucia Perruzzi curatrice della collezione B per Banca è qui con noi buonasera 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 io parlerò un attimo della raccolta B per e del museo che si è inaugurato nel 2017 nella in una cornice espositiva piccola ma molto interessante molto suggestiva la collezione modenese della Banca riunisce almeno un centinaio di opere che vanno dal 300 fino alla fine del 700 all'interno dell'ambito culturale emiliano non solo bolognese e modenese ma anche travalicando gli stessi confini estensi della stessa città di Modena nelle sale che sono state inaugurate nel nel 1900 scusate nel 2017 sono state esposte le opere più interessanti ma anche le più delicate tavole del rinascimento tavole del 500 e anche pale d'altare particolarmente significative nel nostro nel nostro contesto culturale mi riferisco in particolar modo ad una bellissima pala d'altare di Ludovico e a un'altra stupenda straordinaria tela di Lanfranco una tela che proviene da Napoli e che era stata eseguita per il vicere di Spagna quindi opere di non solo di grandissimo valore ma anche di straordinaria importanza dal punto di vista storico nelle sale espositive vengono esposte non solamente queste opere permanenti ma riusciamo anche di tanto in tanto circa prima che la pandemia purtroppo ci fermasse circa quattro volte l'anno a organizzare delle posizioni legate o a un particolare evento modenese come per esempio il festival della filosofia oppure legate ad altri particolari approfondimenti e argomenti della collezione stessa per esempio nel 2018 è stata aperta una mostra direi non solo bella ma anche addirittura commovente perché siamo riusciti a portare a Modena tre opere provenienti dall'acqua che sono rimaste che erano rimaste in deposito fra l'altro in condizioni piuttosto delicate sono state portate a Modena si tratta di due tavole di cola della matrice e un'altra stupenda pala d'altare un politico anzi cinqueciuntesco del maestro dei politici Crivelleschi che nell'occasione sono state anche restaurate adesso per esempio in questi giorni siamo riusciti ad aprire dopo mesi che la mostra è in realtà già pronta un'interessantissima esposizione in collaborazione con il museo civico di Modena un'esposizione che ha come titolo corrispondenze barocche nella quale secondo un sottile affascinante fil rouge si è creato un dialogo tra i principali maestri barocchi diciamo di scuola modenese di scuola estense mi riferisco per esempio a opere di Luca Ferrari Michele De Zubleo sempre il nostro Ludovico Lana due bellissimi dipinti di Guercino e il pittore rarissimo Jean Poulanger che era stato il protagonista straordinario della decorazione del palazzo ducale di Sassuolo è un'esposizione anche molto interessante dal punto di vista collezionistico perché noi abbiamo preso l'occasione della chiusura di alcune sale del museo civico che raccolgono la collezione Campori e la collezione Sernicoli per ospitare alcune di queste opere a confronto con le nostre e in questo modo si è potuto mettere a confronto appunto quello che è il collezionismo storico cioè dell'otto e del novecento che fa capo appunto a Campori con quello che è il collezionismo più moderno più contemporaneo cioè quello della raccolta Sernicoli che era un noto collezionista modenese che ha lasciato in dono al museo civico la sua importantissima raccolta e anche la raccolta della biperbanca una raccolta che era stata iniziata a partire dagli anni cinquanta e che in tutti questi anni si è andata sempre più incrementando con opere sempre più importanti e arricchita anche ultimamente da opere provenienti da altre banche che sono state acquisite dall'istituto modenese quindi invito tutti ad andare a vedere finalmente questa interessante suggestiva esposizione anche perché è aperta a tutti come museo aziendale certo è aperta a tutti in giorni particolari cioè essendo una struttura privata viene aperta gli ultimi giorni della settimana cioè venerdì sabato e domenica quindi anche un museo adatto alle famiglie il museo anche adatto alle famiglie e anche adatto alle scolaresche anche adatto ad una collaborazione con la scuola e quindi con i giovani che devono essere educati grazie dunque a Lucia Peruzzi storica dell'arte curatrice della collezione Biper Banca e adesso ritorniamo con Pietro Cantore presidente dell'associazione antiquari modenesi e ho subito una domanda molto molto birichina parliamo dell'antiquario l'antiquario chi è questa persona che ha anche intorno a sé un po' di fascino il fascino un po' del mercante un po' vispo come ce lo descrivono anche molti film anche a carattere hollywoodiano però non è soltanto un mercante d'arte lei ha anche vissuto molti anni negli Stati Uniti è anche un qualcosa di più un personaggio che fa dall'Iasione con un determinato ambiente culturale anche un personaggio anche un po' di nicchia un po' romantico un po' all'avanguardia insomma chi è l'antiquario moderno di oggi? ma in realtà l'antiquario è posso dire una persona di soprattutto di grande esperienza come dicevo anche prima spesso questo lavoro viene un po' tramandato di padre o di madre nel mio caso di madre in figlio quindi non ci sono degli studi specifici si è sempre dibattuto c'è una laurea che possa mai inquadrare creare una base per un lavoro del genere quindi l'antiquario è una persona che in realtà vive innanzitutto del proprio lavoro ma in senso non strettamente monetario ma proprio la nostra è una vita a 360 gradi perché non si pensa solo al lavoro fondamentalmente perché è un lavoro sì ma è anche è una passione sfrenata e quindi noi viviamo sempre a contatto con restauratori perché curiamo restauri degli oggetti anche con storici dell'arte perché è un importante rapporto con gli storici dell'arte e comunichiamo entusiasmo passione alla clientela e a futuri collezionisti ricordava prima la professoressa Peruzzi la collezione Sernicoli donata un grande collezionista donata al museo civico Sernicoli in realtà commercialista professionista molto importante la sua collezione dove l'ha formata l'ha formata nel mercato quindi con gli antiquari con i rapporti degli antiquari comprando nelle mostre come modern antiquari quindi la cosa importante per l'antiquario è mai affezionarsi agli oggetti perché se no dopo si diventa collezionisti noi dobbiamo essere delle passa opere spesso è doloroso però è così una domanda anzi due domande molto cattive per lei la prima allora l'opera che ogni antiquario vorrebbe avere esposta nella sua galleria ma adesso mi sta facendo vedere proprio in questo momento un'opera di 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 guidoreni ecco questa io la vorrei avere l'opera che si vuole avere l'opera che si vuole avere in realtà è l'opera che non si ha è l'opera che è sempre in divenire perché è così cioè l'opera che si vede nei musei ma i quadri non so uno va a vedere la mostra su Gercino su Elisabetta Sirani e vede un quadro straordinario l'uffizio alla galleria estense però quelle devono stare lì obiettivamente tantore io me la immagino lei no mentre è a un'asta semmai di quelle internazionali di quelle super milionarie quelle tutti vorrebbero essere in quel momento è lì che pronto a fare la sua offerta l'opera che non è riuscito ad avere semmai durante un'asta è proprio per un soffio ma tante volte capita bisogna anche bisogna sempre diciamo alzare il piede dell'acceleratore perché se no dopo ci si va ci si va un po' diciamo a schiantare perché dopo una volta comprata l'opera qualsiasi cifra si ama dopo diventa anche difficoltoso venderla posso raccontare è diventato un po' rosso questa domanda mi ha causato un po' di emozione in genere si raccontano le cose belle quelle meno meno forse sono rosso perché si vede questo quadro di fontane quindi è riflesso è riflesso condizionato può condizionare visto però in in definitiva certe volte non è tanto il possedere gli oggetti cioè il possesso per noi è importante però è più importante a me dà più soddisfazione quando l'oggetto una volta studiato preso va incasellarsi in una collezione o va in mano una persona che l'ama è una sorta di adozione perché è così quando si vende qualcosa e si dà a qualcuno che l'ama come quanto te dà una soddisfazione enorme cosa che adesso capita molto di più rispetto agli anni 90 dove c'era tutta era come dire un mondo completamente diverso e ci si raffrontava anche a tante persone che amavano l'antico ma fino a un certo punto era una questione di moda di status simbolo adesso c'è l'acquirente l'acquirente è qualcuno che realmente vuole acquistare un pezzo unico noi stiamo parlando di tutti questi oggetti che vediamo nelle mostre viviamo in una società di multipli di milioni di pezzi di centinaia di migliaia di pezzi anche nel contemporaneo multipli di multipli l'idea del concettuale eccetera tutti gli oggetti che gli antiquari hanno sono tutti pezzi unici e sono belli per questo ogni oggetto quindi vanno anche comprati per questo cantore allora lei è presidente dell'associazione antiquari modenesi un'altra domanda scomoda quale ruolo oggi dell'associazione antiquari d'italia e della federazione italiana mercanti d'arte allora le associazioni hanno un ruolo fondamentale perché è appartenere a un'associazione da un prestigio da un senso di serietà cioè se un antiquario che partecipa all'associazione dell'antiquario modenese vuol dire che è un professionista è stato accolto una sorta un concetto di club è importante per le mostre anche se è molto importante avere questi patrocini i modi dell'antiquario è l'unica che vanta patrocini sia dell'associazione antiquari modenese sia dell'Alfima e dell'Ai e quindi sono alla base di una manifestazione così ci deve essere questo sostegno degli antiquari gli antiquari sono quelli che in realtà fanno la mostra fanno la mostra con i propri oggetti portando i propri gioielli noi prepariamo queste mostre da un anno all'altro quindi una mostra come Modena sicuramente nasce 35 anni fa per il volere degli antiquari di Modena perché questa è la base poi la FIMA la Federazione Italiana Mercanti d'Arte ha dato un grosso impulso e negli ultimi anni devo dire che l'Ai l'associazione antiquari d'Italia ha portato molta qualità perché l'Ai è un'associazione comunque è molto prestigiosa e aver sposato così virtualmente Modena Antiquaria è stato un bene per tutti è stato un bene soprattutto per la manifestazione e per il mercato perché il mercato alla fine è fondamentale cosa suggerisce oggi di comprare ad un collezionista allora io penso che le collezioni diciamo un giovane collezionista si può avvicinare al mercato e comprare non tanto cioè non bisogna acquistare subito cose di grandissimo costo valore avvicinarsi qualcosa certo se uno ha le possibilità sì però iniziare piano piano anche con cose di valore perché guardiamo adesso ci sono sto guardando delle maioliche ecco adesso uno può comprare iniziare a comprare una maiolica del 5-600 a dei costi ragionevolissimi ragionevolissimi e può iniziare ad entrare dentro questo mondo oppure comprare un quadro di un artista minore che però sia di valore certo certificato dall'antiquario e poi mano a mano ampliare naturalmente non c'è non c'è non c'è limite per dispesa in tutto però adesso è un momento che ci si può togliere grosse soddisfazioni vedo una bella ribata del 700 lombardo adesso hanno dei costi molto interessanti poi anche le opere del 900 quindi poca alla volta iniziare a comprare però comprare sempre delle cose definitive una collezione è sempre una questione di affetto comunque assolutamente però è una questione di affetto ed è un percorso di una vita perché il collezionista compra fino all'ultimo giorno della propria vita non si non si stanca mai è sempre questa continua ricerca e la cosa più bella per la nostra professione è quando si ha a che fare con un cliente alcuni clienti tutti gli antiquari hanno come dire uno zoccolo duro di 5-6 clienti 10 clienti che li seguono e che li trattano con una certa gli antiquari sono anche degli esploratori e a volte hanno in mano si trovano anche dei pezzi che devono anche si chiedono di chi appartiene se la se è stata attribuita la paternalità di un di un pezzo ad una persona a quel pittore a quello scultore a quel ceramista è mai capitata una situazione di questo genere? Beh ma gli antiquari vivono di queste cose cioè come si dice in gergo della scoperta cioè comprare un bel quadro del 600 comprarlo in una piccola asta o anche casualmente in un'eredità e poi prendersi il rischio perché l'antiquadro deve rischiare lui sulla propria pelle quindi comprare il dipinto pulirlo perché dopo la pulitura si vede lo stato di conservazione e si ridà nuova vita al dipinto dopodiché si fotografa si studia si paragona e certe volte si tengono anche gli oggetti in studio anche per anni senza sciogliere un po' l'attribuzione dopodiché ci può essere una delusione e allora bisogna che ingoiarsela come si so dire oppure ci sono anche delle cose molto importanti molto interessanti Tantori ha toccato un tasto importante quello del restauro delle opere d'arte di cui il nostro paese è veramente ricco però è anche ricco di esperti quali sono ad esempio i restauratori uno dei centri più importanti per il restauro internazionale è ad esempio Firenze quindi il nostro è un paese che non ha uguali nel mondo proprio anche come storici dell'arte e per restauratori quindi come si colloca il nostro paese sul mercato internazionale in questo settore quindi nel settore del restauro e anche nel settore proprio dei critici della storia dell'arte che spesso vediamo anche ad esempio molti americani che vengono a studiare in Italia e poi diventano dei critici dell'arte anche molto molto importanti ci possiamo anche chiedere a volte perché beh certamente l'Italia è la culla dell'arte quindi non a caso la scuola di restauro più importante al mondo è qui perché prima di tutto i restauratori restaurano per lo Stato quindi dicevamo Firenze l'Opificio delle Pietre Dure cioè lavorano per salvaguardare tutto il patrimonio storico artistico culturale italiano quindi museale dopodiché i restauratori lavorano anche molto per diciamo le collezioni private che siano di antiquari o di collezionisti e a Firenze dopodiché Firenze diventa ma non solo poi ci sono ottimi restauratori anche in Emilia Bologna Modena Milano e quant'altro Firenze è una cosa un po' unica io ricordo che fino a qualche anno fa ma ancora adesso vado porto delle cose in restauro avevo una restauratrice di dipinti che era scozzese mentre chi mi faceva le donature era un israeliano poi c'era una tedesca perché vengono tutti diventa un mondo una scuola una scuola internazionale gli storici della scuola internazionale o un club per un'elite no una scuola internazionale perché di lavoro ce ne ha molto voglio dire dopo diventano spesso i restauri vengono dall'estero sono musei oppure mercanti internazionali che portano i quadri in restauro in Italia poi c'è il corniciaio c'è la filiera c'è chi restaura la doratura chi fa il restauro pittorico il restauro dei mobili degli arazzi dopo ci sono questi famosi corniciai fionettini che replicano fanno dei falsi ma che sono dei falsi non per fare il falso ma non per fare l'occasione grazie poi gli storici dell'arte naturalmente visto che c'è la materia c'è la materia in Italia di studio sono tra i migliori in Italia poi noi abbiamo c'è ma anche molto da studiare perché nel 5, 6, 700 era l'Italia e anche dopo un centro di di produzione di di opere straordinarie tutti i grandi artisti ne dovremmo parlare ne dovremmo parlare in un'altra occasione perché siamo a un minuto dalla chiusura di questa diretta su Modena Antiquaria purtroppo saremo volentieri per ore a discutere anche a sorridere mi piace anche beccarci un po' perché è sempre molto stimolante allora in chiusura vorrei ricordare in anteprima che la 25esima edizione della mostra modernese si terrà dal 5 al 13 febbraio 2022 a Modena Fiere ricordo le novità la prima edizione di scultura capolavori italiani dal 13esimo al 20esimo secolo una nuova sezione espositiva che presenterà al pubblico e collezionisti opere scultore di grande valore su gestione e poi il significativo rinnovamento di Petra 27esimo salone dell'antico e della decorazione e del design per parchi e giardini Modena Antiquaria Evolution è appena iniziata quest'oggi con questo evento e staremo insieme fino a domenica 30 maggio ogni giorno con un appuntamento diverso intanto introduco la rubrica il marmo che vola pura di Marco Carminati si tratta di 4 appuntamenti a partire dal lunedì 24 maggio quindi tra due giorni con Paolo Liberani e la prima puntata sarà dedicata a Laoponte in Vaticano e adesso passo la parola a Francesca Moratti responsabile di Modena Antiquaria per i saluti gli ultimi saluti e anche ai nostri ospiti e io intanto vi ringrazio per essere stati con noi arrivederci sì grazie io ringrazio tutti e colgo l'occasione per sintetizzare che è proprio uscito da questo incontro l'importanza che Modena Antiquaria ha avuto anche nel creare rete tra le istituzioni culturali la città abbiamo visto il nostro assessore il busto del Bernini che la direttrice Martina Bagnoli ci concede in concessione per la nostra campagna da diversi anni che è diventato oltre che il simbolo anche il nostro portafortuna e il riferimento il sostegno l'aiuto delle associazioni di categoria del settore dell'antiquariato quindi è proprio un esempio virtuoso di sinergia di rete di cui si parla spesso e qua proprio si è concretizzato e portando Modena Antiquaria in questi anni a diventare ad avviare un percorso di rilancio della manifestazione sempre più sempre più importante e sempre più prestigioso ringraziamento soprattutto agli espositori alle gallerie antiquarie che partecipano con un entusiasmo una fedeltà che a me personalmente a volte quasi commuove stiamo crescendo insieme e voglio ringraziare tutti dal primo all'ultimo questa è una prima finessa è una prima sfida per noi on air diciamo dovrebbe essere un percorso di avviamento verso anche un avvicinamento alla fiera di 2022 quindi faremo anche altri appuntamenti vi prego però di stare collegati di consultare il sito modernantiquaria.it perché tutte le gallerie stanno mandando materiale opere importantissime video con descrizioni di opere quindi si sta arricchendo diciamo in questi giorni con del materiale nuovo delle opere d'arte nuovo quindi vi prego davvero un grazie davvero a tutti ma vi prego di stare collegati anche al sito per vedere tutte le nostre 120 gallerie perché sono 120 e il lavoro meraviglioso che fanno insieme a noi per la fiera grazie arrivederci buona serata a tutti Modena Antiquaria Evolution ringrazia per averci seguito e vi dà appuntamento a domani domenica 23 maggio alle ore 21 e 30 in diretta streaming con scrigno d'arte conversazioni d'antiquariato storie dipinte dal sacro al profano dal sedicesimo al diciottesimo secolo grazie a tutti